Novità sul fronte politico nazionale. Parte da Manduria il progetto dell'associazione CDU-PPE che, sostenuto dall'onorevole Mario Tassone, mira a ricreare le basi per tornare a costituire un partito di cattolici. Così come si accinge a fare il PDL con un ritorno a Forza Italia e come intendono fare i componenti di destra, riproponendo alleanza nazionale, non credendo più nel progetto dell'Udc di Casini, svuotato in parte dall'alleanza con scelta civica con Monti per l'Italia, alcuni componenti di questa formazione si sono ritrovati attorno all'idea di tornare a recente passato, ricomponendo il partito dei cristiano-democratici uniti, PPE. Un progetto ambizioso che è stato presentato in anteprima a livello regionale a Manduria e che presto sarà divulgato anche in altre regioni. La politica in questi ultimi tempi si è caratterizzata da messaggi vuoti, privi dei valori cristiani che un tempo facevano la differenza. Si è lasciato spazio così alle formazioni civiche e a quelle nate per protesta, che però per i componenti del CDU-PPE non hanno futuro. Per questo il CDU intende tornare ad essere punto di riferimento per i giovani, per costruire un partito con la P maiuscola. Abbiamo sentito alcuni componenti della nuova formazione presenti all'incontro di Manduria. Tonino Borsi, Aldo Ranieri, Leonardo Moccia e l'onorevole Mario Tassone. Innanzitutto perché questo incontro questa sera proprio a Manduria? Perché Manduria è parte del Salento. Il Salento ha una tradizione centrista, moderata, cattolica, che credo che dal dopoguerra a oggi non ha molte storie simili. Perché Manduria appartiene un po' anche alla mia vita. Io sono per metà manduriano, perché sono qui da 30 anni, naturalmente per lavoro. Sono legato a questa città che ho visto violentata negli ultimi 15-20 anni. Spero che adesso ci sia una riscoperta di un luogo così importante e storico come Manduria. E poi perché questa città piaceva moltissimo all'onorevole Tassone. Tanto che mi ha detto che se iniziamo da Taranto per la Puglia vorrei iniziare da Manduria. Lui è stato già qui altre due volte perché fu colpito da questa città che rappresenta un po' la storia e la rappresenta molto bene, ma la modernità la rappresenta molto poco bene. E quindi abbiamo pensato di dare un messaggio nuovo, naturalmente non soltanto ai manduriani, ma a tutta la provincia di Taranto e tutta la regione Puglia. Questo è il primo incontro regionale. Ne avremo in questo mese, poi nel mese d'ottobre. avremo altri 14 incontri regionali nelle sei province della regione Puglia. Quali sono gli obiettivi della vostra associazione? La nostra è un'associazione che vorrebbe guardare con più attenzione ai fatti politici, vorrebbe ridare voce ai gruppi che forniscono pensiero a ogni azione e vorrebbero anche dimostrare che la politica si può fare senza grandi denari. basta soltanto aggregare più persone, cercare un confronto dialettico all'interno di queste sezioni per ridare luce ma per ridare anche un significato diverso alla politica che dagli ultimi vent'anni vede impegnati più i consiglieri comunali come rappresentanti non soltanto in consiglio comunale ma anche di un certo numero di voti quando invece la gerarchia dovrebbe essere diversa e cioè il partito che sceglie i migliori suoi rappresentanti e li propone alla cittadinanza. e quei rappresentanti eletti dovrebbero essere poi fare molto attenzione alle desiderate di tutti i componenti di un'aggregazione, chiamiamolo come vogliamo associazione, partito eccetera. Io spero che si ritorni comunque a una politica più vera, più reale e non a una politica soltanto del messaggio e basta ma a una politica dei fatti e speriamo che proprio partendo da Manduria, con l'augurio anche che questa amministrazione che è qui a Manduria da qualche mese, possa fare meglio di tante altre amministrazioni precedenti non ce l'ho con nessuno, non mi permetterei, sono una persona abbastanza in questo senso libera da ogni schieramento che c'è stato io vorrei però che questa città, che merita molto di più, avesse qualcosa in più in questo nuovo periodo politico. Stato dirigente provinciale dell'Udc, adesso con questa associazione che tipo di progetto proponete? Il progetto che noi ci proponiamo di portare a compimento è quello di recuperare un po' i valori della tradizione cattolico-cristiana che si sono persi noi vorremmo, cosa che purtroppo si è persa nel tempo noi vorremmo, adesso è un'associazione, ma chiaramente puntiamo a che diventi un partito ma non il partito dei cattolici, ma un partito di cattolici perché con dire il partito dei cattolici abbiamo visto purtroppo tutti coloro che si rifanno ad una ispirazione cristiana andare in vari partiti da Forza Italia, destra, sinistra, centro allora noi vorremmo recuperare a noi tutte quelle persone che hanno quei valori di ispirazione cristiana e che hanno poi portato il nostro paese a diventare un grande paese quando c'era la democrazia cristiana lo so, potrà sembrare un progetto molto ambizioso noi ci tentiamo, normalmente sono le strade difficili che ti portano a raggiungere grossi risultati perché le strade semplici non ti portano mai a niente è la prima sede dell'Italia intera ecco perché ci onoriamo oggi di avere a Manduria l'onorevole Tassone proprio per iniziare da Manduria questa nuova strada non è che è nuova perché nasce oggi lo scudogrociato lo sappiamo ha una sua storia nasce da tempi dove c'erano i valori dove esistevano il rapporto umano cosa che in questi ultimi tempi ce lo siamo dimenticati proprio sulla scorta di questi generi noi vogliamo ricreare far rinascere questo partito dello scudo crociato che poi si chiama Cristiani Democratici Uniti PPE perché si adegua anche ai tempi di oggi perché dobbiamo essere anche un partito nuovo però con delle fondamenti solide perché ci basiamo su quelle, come dicevo prima regole che mancano oggi nella vita politica dialogo, confronto e anche se possibile misurarsi nelle idee per dare qualcosa a questo paese noi cerchiamo con il nostro intervento ad evitare quello che poteva nascere nei tempi dell'80 quando non ci dimentichiamo quando c'è stato un pericolo proprio di crollo economico del paese dove i giovani facevano nascere alcuni gruppi o fomentavano iniziative poco chiare ecco perché oggi vediamo anche delle iniziative sul territorio che fanno male ecco per evitare questo noi abbiamo fatto questa scelta cercare di far rinascere un partito dove si chiama partito con la P maiuscola dove non è un movimento che nasce solo al momento della campagna politica perché oggi questa è la realtà ma noi vogliamo che ci sia una sede nell'intero periodo dell'arco politico di un'amministrazione dall'inizio dell'anno alla fine e che sia un rifugio, un riferimento del cittadino perché il cittadino oggi non sa a chi chiedere quando ha necessità o a chi andare a demandare i propri bisogni il partito, la politica non è altro che mettersi a servizio dei cittadini oggi purtroppo devo dire questo la realtà per l'esperienza che mi costa non è a servizio dei cittadini ma a servizio di persone o personale si parte da storie non compiute e che sono state lasciate a metà sono state interrotte e qualcuno che vuole non soltanto smentire ma cancellare si può cancellare una storia si possono cancellare sentimenti, valori ma soprattutto le battaglie che milioni di uomini nel passato hanno condotto per inseguire un ideale e non soltanto per un modo di agire nel contingente ma un ideale che poi configurava un sogno un sogno di giustizia e di libertà il CDU quindi è un progetto adesso un'associazione però sarà un progetto politico i cristiani democratici uniti sono nati nel 1995 per difendere lo scudo crociato adottando lo scudo crociato per difendere la storia dei cattolici democratici un impegno che abbiamo assolto quando qualcuno ha diviso il PP per inseguire una scelta dolorosa che è quella dell'area della sinistra confondendosi nell'area della sinistra e abbandonando ovviamente le insegne e la simbologia che erano proprio quelli dei cattolici democratici impegnati in politica noi continuiamo tutto questo abbiamo contribuito a fondare l'Udc questa associazione sta oggi nell'Udc ma vuole capire soprattutto se questo progetto che era il progetto Udc è finito a mio avviso è finito perché l'hanno già svenduto allora rimane il CdU che ripeto è stato uno dei fondatori e una delle leve portanti di questo Udc rimane perché questi diari e questo principio, questo simbolo e questa storia non viene a essere inquinata da processi di liquidazione di accorpamenti così come oggi stanno facendo i vertici dell'Udc che non si capisce dove vogliono andare non hanno nemmeno capito qual è la lezione che gli viene dalle lezioni del 23 e 24 febbraio non hanno inteso rispettare le regole violando le regole, violando lo statuto non convocando un congresso nazionale e loro sono fuori legge non la legge soltanto lo statuto ma anche ordinaria perché i partiti fino a questo momento sono supportati dal finanziamento pubblico e violando quelle che sono ovviamente le leggi anche i civili delle leggi dello statuto perché questa classe dirigente è decaduta ma al di là di questo non ne vogliamo fare un problema facciamo un problema di carattere politico vogliamo un congresso nazionale e non vogliamo che ci siano queste devianze soprattutto queste tentative di distrarre con feste del popolare di Chianciano che non hanno senso stridono in questo momento nel momento in cui facciamo la festa invitiamo tanti ospiti illustri dal Presidente dei Consigli in poi e che cosa gli diciamo se non c'è stato un congresso nazionale? Cosa gli dobbiamo dire? Quali sono le nostre proposte? Quali sono i nostri programmi? Questo è un modo certamente assurdo e balordo allora richiamo forte quella che è stata questa esperienza a tanti amici che ne hanno condiviso i percorsi credo che sia essenziale e fondamentale per poter guardare avanti per dare ovviamente una risposta ai tanti quesiti e tanti interrogativi esistenziali che riguardano la democrazia e la libertà del nostro paese la giustizia è un sogno non credo che sia stato un sogno quello di Di Casperi o quello di Aldo Moro credo che sia oggi alla portata di tutti di tutti coloro che credono nei grandi valori nella grande dignità dell'uomo che deve essere garantita e costruita giorno per giorno a presto a presto a presto a presto